Stefano Tunis, Sardegna 2020 per la prima volta alle elezioni regionali, oggi a Valghiero. Oggi a Valghiero e in tutta la Sardegna, stiamo portando un nuovo modo di fare politica, la proposta che consideriamo più innovativa non soltanto nel centro-destra ma in tutto il panorama politico sardo. Stiamo dando la possibilità a tanti amministratori locali e a tante persone della società civile di poter realmente competere per un seggio in consiglio regionale per affermare le proprie idee senza passare dalla nomenclatura dei partiti, senza stare sotto il gioco dei partiti. Noi siamo l'unica vera novità di queste elezioni. Una novità a Chiadalghero propone una donna. Una donna importante, un'imprenditrice, Elena Fonnesu, che ha avuto non soltanto il coraggio ma la grande disegneranza di prendere tutta la sua esperienza di donna, di madre, di imprenditore, di lavoratore e metterla sul terreno della politica attraverso uno strumento che le consenta di essere rete in consiglio regionale. Elena Fonnesu, perché Sardegna 2020? Sardegna 2020 perché è un movimento che nasce come un movimento civico che dà spazio a tutte quelle persone che come me credono nella politica, vogliono un rilancio del territorio, ma un rilancio vero, che garantisca un futuro ai nostri figli. Un elettore, non solo algherese, ma sardo, perché dovrebbe scegliere Sardegna 2020 e perché Elena Fonnesu? Sardegna 2020 perché rappresenta tutti i sardi in ugual misura. Elena Fonnesu perché io sono una persona come tutti i sardi che Sardegna 2020 intende rappresentare.